oh mamma mia come li prendo la legnata adesso davanti a tutti Zani vedi che devi stare a piedi a sette per un anno per a stare, vedi che è pericoloso ma chi? ma chi? ti stai andando a infilare dove ci sono dei ragazzi? no io non mi infilo dentro, io fuori li chiamo io non mi muovo di lato quando non chiudono ogni sera questo giardinetto lo chiudono ma chi stisce? ma ti fai i cazzi tuoi? oh mio cellulare! ma gliel'hai dato tu? io ho dato perché dovevamo aggiustarlo e ma non cosa? cosa dovevamo aggiustarlo? dovevamo, io ho parlato con Nicola che aggiustava il cellulare ma sono ragazzi di strada ho capito ma io li voglio aggiustare tu li vuoi aggiustare i ragazzi o il cellulare? certo cosa vuoi aggiustare? io li ho sgammato che questo ragazzo là dove mi è complato le sigarette io mi ho dato 20 euro e lui mi ha dato il resto perché anche se è il ragazzo tossico è il ragazzo nostro e se lui ce l'ha lavoro, se ce l'ha qualcosa io non farò queste cose ma che cazzo dici che cazzo niente vedi se ti ricocchi e te lo hanno una gran fascia di coppa io te lo sto dicendo vedi se ti fai ammazzare di botte lascia stare ma io non è che sto uscendo con male nude ha 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 ha